Credo però che nonostante la scelta di inviare armi in Ucraina, gli sforzi per la costruzione di un percorso di pace debbano rimanere prioritari. Per questo abbiamo chiesto di insistere sulla stata del dialogo, del confronto, chiedendo anche una tregua, perché la storia ci insegna che se c'è la possibilità di una tregua bisogna insistere per averla. Noi abbiamo fatto anche la proposta che l'Unione Europea possa svolgere questo ruolo di mediazione con un'unica voce. Per noi potrebbe essere quella di Angela Merkel, per la sua esperienza, autorevolezza, conoscenza di tutti i dossier. Ieri l'ambasciatore dell'Ucraina ha chiesto che ci sia una mediazione, addirittura immaginando la Cina come possibile mediatore. Se può farlo la Cina, a maggior ragione, noi riteniamo che l'Europa potrebbe giocare questo ruolo importante di mediazione.